sono felice di presentarvi diversamente un film ad episodi che ho fortemente voluto prodotto dalla mia società Reset Production e distribuito dalla 102 Distribution uscirà su Cili il 18 maggio e in anteprima e parla proprio di diversità sotto svariati aspetti pensi di valere più di noi? Io cosa? Io vivo da anni in questo condominio e ti posso garantire che qui siamo tutte persone per bene io da sempre combatto il pregiudizio razziale parla del tema della diversità sotto tanti punti di vista, sotto vari aspetti dall'omofobia, al razzismo, anche alla diversità interculturale eccetera insomma è molto complesso, è rivolto ai giovani proprio per sensibilizzarli su questo tema far sì che appunto si rivolgano al ragazzo diverso senza più preconcetti e diffidenze un cast veramente eccezionale perché abbiamo Michele Andreozzi, Claudia Zanella, la Caterina Misasi poi abbiamo Alessandro Borghi e tanti altri, Ivan Bacchi, Elisabetta Appellini, Simone Montedore, Uridice Axel, la grande Fioretta Mari insomma un cast incredibile, tutti attori molto molto divertenti e ci tenevo a sottolineare che la diversità arricchisce ed è questo il messaggio che vogliamo dare basta pregiudizi e soprattutto capire che la diversa mente, che è il titolo del film significa che ognuno di noi vede le cose dal suo punto di vista e che possiamo arricchirci proprio perché siamo differenti il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà